Filmino, due geni a confronto. Adesso dovete indovinare chi dei due ha la missione alla prima elementare. Guarda che belli, guarda che belli, un bacino e la rivincita. Dai un bacino ragazzi, dai, non è niente. Dai Fabio, un bacio, un bacio. Diego, un bacetto, dai. Ma è nemmeno indietro che si vede. Dai, accosta, accosta. Guardate il bastiano che è espressione intelligente. Paroli, questa è l'espressione baccagno, vai. Io sono tanto innamorato di lui, ma lui non mi vuole. Dai, facciamo il gioco dei mimi. Dai, mangi sta cazzo di cazzo. Allora, vai, gioco dei mimi, allora, sguardo intelligente. Guarda che sexy, guarda che bello che è. Mi sei mangiato un pollo in un morto. E questo? Vogliamo parlare di Cappatonda. Maccio Cappatonda, ragazzi. E zio Bastian. Puntata numero? Questa è la 5. Però la 1 ha cancellato. La 1 qual'era? Allora, quando la muore, mi ha fatto la video chiamata. Con la tua ragazza, con le amiche, con le colleghe, eh? Quella sul Consulente d'Italia. Attenzione che questa va su YouTube e poi Fabio si lascia, eh? Diglielo. Diglielo? Ho già mai inguagliato quel cazzo di video. Anche tu che li ho collegato alla tua ragazza. Anche su YouTube. Non è che uno va su YouTube e li vede per forza zio Bastian, eh? Collegato alla mia pagina, sia prima in automatico. Certo, certo, certo. Sì, certo. Vero che era così? Oh, stupido. Guarda che è così. Pezzo di coglione. Pezzo di coglione. Tu vai sul suo video. Oh, cazzo di ignorante. Quando si finisce? Quando si finisce? Il dottor Raffa, quando si finisce? Si vedono tutti collegati a quelli di Zio Bastian. Si vedono tutti quelli collegati. Zio Bastian è il vero, proprio se l'originale. Adria, dici quando... Sei un imitatore. Cosa devo metterli? Io bagno così, guarda. Dai, fai genio. Ieri per quel quattro mi ha fatto gazzare... Quante cazzo di scommesse devo... Mi ha fatto gazzare da... Da quella lì. No, nomi no. Nomi non se ne fanno, eh. Niente no. Guarda, io non mi guarda. Ma posso, c'è qualcosa? Io non ho messo in te, che si guarda il sottore. La testa, la rega, è con la carburchiona. Guarda che belli. Oh, ma ancora? Sto buono! Ma chiama Ursus? Perché non è venuto? Mi manca Dio Buono. No, non Dio Buono. Ursus? Eh? Non Dio Buono. Dio Buono. No. Dio Bastian. Schiaffeggio. Sto contando. A Natale faccio il DVD, eh. Faccio con tutte le puntate. A Natale faccio il DVD, eh. Con il poster, e faccio i soldi, eh. E una copia della... Gli vendevano i interni i cd, non usavano vendere noi. Tu sei un grande. Guarda lì.